Ben tornati da meteo.it. Come vediamo dalla grafica, giovedì la seconda perturbazione del mese attraverserà rapidamente il nostro territorio portando dell'instabilità. Andiamo a vedere in dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì. Avremo una nuvolosità diffusa da nord a sud e le precipitazioni interesseranno il nord-est, le regioni del centro, il versante tirrenico e la Sardegna. Venerdì la seconda perturbazione avrà abbandonato il nostro territorio che però verrà raggiunto dalla terza perturbazione e quindi avremo giornate a tratti piovose e nuvolose, qualche nevicata in montagna, le temperature saranno comunque superiori alla media stagionale.